Ciao a tutti! Cosa significa quando una donna ti appoggia casualmente le parti intime? Cioè si appoggia, diciamo, magari sfiorandoti con il seno. Questo può avvenire magari in ufficio, può avvenire in situazioni diverse, in società, eccetera. In tante situazioni. Allora, diciamo che intanto prima iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale e su TikTok. Allora, quando una donna si avvicina a te e casualmente con fare, diciamo, da gatta morta, ecco perché questa è un po' la tattica della gatta morta. Per vedere quanti all'occhi ci cascano. Perché è ovvio che se tu sei in ufficio e la tua collega, facciamo un esempio dell'ufficio, potrebbe essere un'altra cosa, con la scusa della pratica in mano, si avvicina, oh guarda un po' questa pratica e magari se è prosperosa ti appoggia un attimino il seno sulla spalla per dire, mentre ti fa vedere la pratica. Allora, è ovvio che tu percepisci una sensazione, diciamo, sei stimolato e questa è una tattica di seduzione che le donne a volte usano ed è contemporaneamente uno shit test. Perché? Tieni presente che se una donna fa così con dieci uomini, se ne ringaluziscono dieci. Cioè tutti e dieci iniziano a entrare in uno stato un po' tensionale e dicono, ma sarà interessata a me, lo farà apposta, non lo farà apposta? Perché la sensazione c'è. Ovviamente deve avvenire, la donna deve farla in modo casuale, perché ovviamente se te lo fa platealmente, ma è molto meglio così per una donna. Infatti se le donne mi seguono su questo canale, e io suggerisco anche alle donne di seguirmi perché le informazioni sono utili, fatelo, no? Perché andate a stuzzicare tantissimo un maschio. Ovviamente deve avvenire in modo casuale, altrimenti ovviamente l'uomo ti giudicherà una di quelle, insomma, un po' zoccola, non ti vedrà mai come una compagna di vita. Però questo, ok, rimaschietti, è uno shit test, perché infatti se voi abboccate al lamo e andate lì e iniziate a corteggiare questa donna, lei che ti ha preso ti porta in giro dappertutto, ti trascina dappertutto e cosa fa? E si piglia a gioco di te, perché una volta che tu hai abboccato, tra virgolette, te l'ha fatta per così dire anusare, te l'ha fatta sentire, perché talvolta l'appoggio può essere anche, diciamo, della passera, magari in modalità diverse. Sfiorandoti, magari se tu sei seduto, per dire, cioè, lei si avvicina in piedi, magari per darti sempre la pratica in ufficio, te l'appoggio un attimino, è ovvio che questo crea degli stimoli, tu ti ringaluzzisci e pensi, questa ci sta. Ora, non è detto che sia così, lo potrebbe fare semplicemente per prenderti per il culo, cioè per giocare con te, per stuzzicarti, per farti uno shit test, per vedere se abbocchi, per vedere se sei il fesso che abbocca e che inizia subito a invitarla, a corteggiarla, a dire, vediamoci, facciamo, eccetera, e allora lei ti metterà dei vincoli logici e già si stuferà di te, non gliene fregherà più niente di te, a meno che non lo faccia proprio per sedurti invece, ma per qualunque motivo lo faccia, anche se lo facesse perché veramente ti vuole, vuole sedurti, tra virgolette, se vedi che te ci caschi come un fesso, o comunque se vedi che te ci caschi, non sarà più interessata, l'interesse comunque diminuirà, perché capirà che tanto, basta che te la fanno usare un po' e tu ci caschi subito, sei subito quello lì che inizia a sbavare, inizia a fare di tutto. Quindi questo è contemporaneamente uno shit test, oltre, c'è un test che le donne ti fanno per capire se sei seducibile, e potrebbe anche fermarsi lì la cosa. Una volta che ha visto che sei seducibile, dici, beh, un altro che ce l'ho, un altro cavalier servente che cercherà magari poi di scrocarti magari delle cose, magari scrocarti delle cene, scrocarti delle bevute, degli aperitivi, delle uscite, insomma, per scroccare senza di fatto darti nulla in cambio, insomma, senza dartela la stima e la considerazione. Allora, se tu invece vuoi che sta stima e considerazione te la dia, per fartela dare non devi abboccare al lamo, devi semplicemente far finta di niente. Anzi, quando lei si appoggia, tu che fai? Ti allontani. Ti allontani e metti una barriera di mezzo. Cioè, lei viene lì nella pratica d'ufficio, te l'appoggi un attimino nella pratica, tu ti sposti un attimo, ti allontani, senza neanche, non è che deve essere che devi scappare, cioè, ma ti allontani un attimino, facendo finta magari di prendere un foglio o qualcosa, e interrompi il contatto. Ecco, questo la manda lei in tilt, perché a quel punto lì, ovviamente potrebbe pensare, questo sarà amica dell'altra sponda, quindi devi far vedere che tu hai interesse poi per le donne in generale, ma soprattutto che non hai interesse per lei. Quindi questo è il messaggio che deve recepire. Deve dire, analogicamente, senza che venga detto niente, lei inizierà a pensare, ma guarda che questo non gli piaccio, ma come mai, ma perché? Nella sua testa interaltarlo non gli piaccio, fisicamente non gli piaccio. E allora cercherà, posso garantirti, visto che tu analogicamente, senza dire niente, di fatto hai offeso il suo orgoglio di femmina, perché l'hai rifiutata fondamentalmente, lei si è avvicinata indirettamente, e tu l'hai rifiutata, lei che farà, cercherà di fare sempre di più. E quindi, come dire, non è bastato questo, ma nella sua testa scatterà il tarlo, io questo lo voglio veramente sedurre. Anche se prima lo faceva solo per giocare, lo faceva solo fondamentalmente per prenderti in giro, ora invece le motivazioni cambieranno, ora lo farà per vedere, farà di più, insomma. E quindi tu dovrai approfittare di questa cosa, per cui il fare di più deve essere dartela. E una volta che te l'ha data, te la togliere dei maroni, perché una che fa così, di fatto, è una gatta morta, fondamentalmente, non è sicuramente una con la quale puoi andare a costruire, anche se volessi qualcosa. Però, agendo in questo modo, riuscirai a bypassarla fondamentalmente, a bypassare il suo modo di fare, insomma. Bene, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube.